qui sul tavolo io vedo un il risultato di un progetto il titolo è 15 giochi con immagino si tratti di piero cioni piero cioni esatto se ce ne parli è sì questa è una delle tante cose che hanno aspettato la luce in fondo al tunnel della pandemia perché effettivamente un progetto che era nato l'anno scorso legato quindi al primo anniversario della morte di piero che è morto nel giugno del 2019 e da un'idea di di flaminia brasini poi subito rilanciata da da paolo mori che è un po il portavoce della community e autorale italiane quindi della sezione italiana della della saz della società degli autori di giochi da tavolo perché perché piero comunque era impossibile non volergli bene che alla fine oltre a essere comunque un un autore diciamo di grandissimo pregio nella sua creatività di game designer che come dire non non si è mai fermato su un genere su uno stereotipo su una meccanica da usare riusare all'infinito come fanno tanti no veramente se vai a vedere i giochi di piero sono tutti molto diversi l'uno dall'altro eppure tutti come dire tutti i suoi no alla fine quindi è una figura che abbiamo amato come autore ma era proprio umanamente parlando una persona con cui con come dire con una disponibilità con 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 un sorriso con una carica umana che vuol dire con il cuore che ti ha realizzato di fatto esatto e in dettaglio si tratta di una raccolta di giochi esatto esatto realmente riproducibili in casa queste sono di fatto le istruzioni e ogni ogni due pagine qui infatti parliamo vediamo a conti fatti di luca bellini around the world di martino chiacchiera con l'andamico come autore coin rally di carlo rossi c'è sicuramente anche esatto ecco qua infatti immaginavo flaminia brasini e virginio gigli la lea negri insomma un po e ce n'è veramente hanno collaborato fatto il conto l'altro giorno solo come nomi di autore citati perché poi alcuni in realtà sono degli ensemble sono praticamente più di 30 autori oltre a tutti gli illustratori che hanno partecipato quindi non voglio dire tutti gli autori italiani perché ce ne sono molti di più di autori in italia però veramente tantissimi e il concept appunto come dicevi tu e di dare 15 giochi che sono tutti giochi giocabili quindi ognuno sintetizza nella pagina regolamento nell'altra il tabellone di gioco sostanzialmente quindi basta aprirlo metterlo sul tavolo e giocare aggiungendo questa è stata una diciamo delle cose che come autori abbiamo una delle sfide dire bene fai un gioco le cui regole stiano su una pagina il tabellone stia su una pagina che tu possa giocare con cose che qualunque giocatore ha in casa quindi segnalini standard da di gettoni quindi ognuno di questi giochi richiederà un minimo di saccheggio delle scatole che che chiunque di noi è in casa per completare la dotazione come indicata all'inizio ci sono anche io come autore qui è sufficiente un dado quindi qua praticamente sono sufficienti un po di dadi da sei un po di segnalini di un paio di forme diverse comunque fattibile in casa diciamo sono tutti alla portata di qualunque sicuramente giocatore che sia qui a play di sicuro il concetto qual è non sono ovviamente 15 giochi qualunque è quello che è stato chiesto appunto se poi quando vedi in ultima pagina abbiamo proprio la ludografia di piero è stato a ciascuno degli autori di ispirarsi no di come dicevamo anche l'introduzione di parlare con uno dei giochi di piero purtroppo non possiamo più parlare con piero però parlare con uno dei suoi giochi e quindi volevo riprendere risparsi ispirare da o dal tema o da una meccanica o da un concept in uno dei giochi in qualche modo ognuno di questi giochi è un omaggio a una delle creazioni di piero l'altra cosa sempre nell'ottica di un progetto che voleva essere come dire aperto e collaborativo e che per quasi tutti i giochi poi qualcuno non è riuscito a costruire la squadra come si sperava quasi tutti i giochi sono costruiti da più di un autore quindi sono costruiti da un autore diciamo affermato fra virgolette comunque già noto e da uno più autori esordienti questo anche ci sembrava un ulteriore omaggio nell'omaggio cioè di fare in modo che con questa pubblicazione tanti giovani aspiranti autori potessero emergere di fatto portati in questo meraviglioso mondo anche proprio da un punto di vista autoriale questo è un messaggio molto bello da proprio l'idea della comuni della comunità di questo di questo sentimento che ormai ci accomuna veramente tutti anche perché poi era anche qua un po un modo di riprendere lo spirito di piero che benché diciamo i suoi giochi di per sé non sono coautorati quasi tutti tranne uno con con sorrentino però era una persona che era sempre disponibile allo scambio sempre disponibile alla collaborazione c'era una cosa che non funzionava nel tuo gioco era pronto sempre a darti la dritta giusta per aggiustarla anche perché ci aveva una sensibilità di capire subito la meccanica sbilanciata la cosa che non funzionava quindi era un grandissimo come dire amico anche nell'ambito del game design quindi anche questo l'abbiamo voluto riprendere nello spirito e l'altra cosa che poi insomma importante che questa iniziativa un'iniziativa di beneficenza cioè anche qua abbiamo fatto una scelta diciamo non casuale perché vanno i proventi alla fondazione ant che è una fondazione presente vuol dire assistenza nazionale tumori e praticamente è la fondazione che ha ospitato piero nelle ultime settimane della sua vita in uno dei suoi hospice vicino bologna quindi una fondazione con la cui missione è fondamentalmente focalizzata sull'assistenza ai malati di tumore e alle loro famiglie perché comunque per carità il percorso di cura di ricerca eccetera sono tutte cose estremamente importanti però si arriva a un punto in cui senza questo tipo di supporto si rischia di essere veramente tanto soli e comunque affrontare dei momenti molto difficili in modo veramente duro è comunque dura però avere dietro di sé accanto a sé c'è una struttura io non si sente soli si sente affrontare un momento così difficile probabilmente con un piccolo supporto o grande supporto che a volte ci fa vedere poi perché rimane ci fa affrontare poi i giorni successivi penso che anche questo sia un messaggio che che piero avrebbe apprezzato tantissimo un po meno soli e questa poi appunto è stata anche qua nell'occasione di play poi una bella collaborazione con con voi di o gioco che a parte dal punto ospitarci ora in questo spazio non poi ospitate questa antologia di giochi nel vostro della vostra edicola noi quindi per chi la cercasse a play la può trovare nel nell'edicola di o gioco con una donazione chiediamo un minimo di 10 euro che vengono interamente al cento per cento devoluti e poi alla fondazione si porta a casa questo ricordo di piero c'è un gioco che ti piace di più tra tutti questi mi fai una domanda difficilissima diciamo io c'è un gioco tra quelli di piero che per motivi anche miei personali e professionali ho particolarmente nel cuore che image storm che per me anche se purtroppo ha avuto vita breve sugli scaffali resta un capolavoro e l'adattamento che ha fatto paolo mori di image storm nel renderlo un micro gioco diciamo in che si chiama mana storm quindi fa diciamo ideato da paolo mori e illustrato da francesco mattioli diciamo ora senza voler fare torta a nessuno degli altri 14 ecco su questo c'ho un po come dire un feeling particolare che è infatti infatti l'illustrazione è sicuramente molto evocativa in tutti i sensi sia nel senso del mago che sta evocando sia proprio nel ricordo esatto e tra l'altro tutte le illustrazioni anche tutti i materiali sono tutti originali e anche gli illustratori così come gli autori hanno lavorato a questa pubblicazione a titolo totalmente gratuito proprio perché tutti quanti noi abbiamo comunque creduto in questo progetto insomma di metterci un mattoncino molto interessante molto bello c'è qualcosa magari che voi ti senti di dire per supportare secondo me al di là dell'aspetto di me che devo dire che insomma prodotto editorialmente molto curato molto molto carino sì sì c'è stato probabilmente anche realizzare l'elevata qualità nella sì sì c'è stato tanto tanto lavoro appunto di tutti gli autori collaborazione di appunto di flaminia che ha fatto diciamo il primo round di editing poi simone peruzzi ha fatto la prima round di revisione poi io ho fatto un ulteriore round di editing fabio maierana che diciamo l'arte director di ares games che ha fatto come dire la rifinitura e la messa a punto di tutto l'aspetto visivo del prodotto che insomma ci ha lavorato una squadra che però ripeto al di là ora di noi che abbiamo tirato le file del progetto dietro c'è decine di persone dal punto di vista di chi lo deve portare a casa e direi come dire che chi ha play lo deve riportare a casa una copia è un prodotto per tutti meno di un euro per gioco 15 giochi veramente per tutti i gusti che potete portare a casa che deve dire oltretutto ogni singolo centesimo va per una causa che credo che purtroppo ormai insomma chi quasi tutti noi nel nostro percorso di vita o con un familiare o con un amico o con un parente ci siamo trovati a vedere che cosa vuol dire dover stare accanto a una persona malata di un cancro di un tumore incurabile quindi questo penso insomma ecco diciamo anche fossero i giochi brutti ma in realtà sono anche 15 dei giochi di questo caso parliamo comunque a prescindere dal valore umano ed etico che c'è dietro il progetto parliamo comunque di 15 giochi con grandi firme autorali del panorama italiano che comunque meritano a prescindere questo penso che vada comunque valorizzato perché sì è vero il progetto è a un'anima più che più che fantastica però è un buon progetto questo è il punto che secondo me hai ragione paolo nel volerlo sottolineare ma poi ognuno degli autori come dire ci ha messo il cuore ci ha messo la firma no nel senso in tutti i sensi quindi vuol dire che ognuno comunque ha creato un qualche cosa di cui come dire può andare orgoglioso ecco quindi da ma tra l'altro anche come concept questo fatto di aprire un libro e giocarci sopra tra l'altro è veramente anche uno dei trend dell'ultimo periodo quindi funziona benissimo tu hai un regolamento di fianco il tabellone qui qualunque gioco scegli hai di fianco immediatamente una posizione giocabile è molto pratico è fantastico da da intavolare veramente mezzo secondo a parte recupero di sette dadiche sì sì almeno alcuni cambi una marea di scatole si può fare adesso ci sono applicazioni poi ci sono anche dei giochi che hanno veramente componentistiche ancora più minimaliste del migliore sapete che noi adesso ci piace fare poi gioconino quindi anche nel fare i micro giochi sono un po di micro gioconi però fantastico ciao 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 Grazie a tutti